In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae. Ora Pronobis. Continua la vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno. Quarto episodio. L'attentato. Nei dintorni sorgeva un monastero. Quando morì il padre di quella comunità, tutti i monaci vennero dal venerabile Benedetto e lo pregarono caldamente di acconsentire a diventare il loro abate. Egli cercò a lungo di dissuaderli e di sottrarsi alla richiesta, anche perché prevedeva che il tenore di vita di quei fratelli non poteva accordarsi con il suo. Ma poi, vinto dalle loro insistenti suppliche, acconsentì. In quel monastero egli si mise tenere duro circa l'osservanza regolare, e più nessuno si poteva permettere di deviare, come prima facevano, a destra o a sinistra fuori dal sentiero della vita monastica. Allora quei fratelli, di cui egli si era fatto carico, e la cui stortura di coscienza si scontrava con la sua grande rettitudine, fremettero di collera, e incominciarono ad accusare anzitutto se stessi, poiché avevano avuto l'idea di richiederlo come abate. Si rendevano conto che sotto il suo governo le cose illecite non erano più permesse, ma d'altra parte non erano disposti ad abbandonare le vecchie abitudini, essendo troppo duro per loro praticare una vita nuova, senza mutare la vecchia mentalità. Poiché dunque, come sempre accade, a chi si comporta male dà fastidio la vita dei giusti, essi incominciarono a studiare il modo di farlo morire. Presa ad accordo la decisione, gli misero del veleno nel vino. Venne poi presentata Benedetto, loro padre, seduto a mensa, la tazza contenente la bevanda avvelenata. Perché, secondo la consuetudine del monastero, desse la benedizione. Benedetto, stesa la mano, fece il segno di croce, e subito la caraffa di vetro, pur essendo tenuta a una certa distanza da lui, si ruppe e andò in frantumi, come se egli, anziché fare il segno di croce, avesse lanciato un sasso contro quel vaso che conteneva veleno di morte. L'uomo di Dio comprese immediatamente che nel recipiente c'era una bevanda mortale, proprio perché non aveva saputo resistere al segno della vita. Si alzò all'istante, e con volto sereno, con animo pacato, chiamati quei monaci, disse, Dio Onnipotente abbia pietà di voi, fratelli, perché avete voluto comportarvi così verso di me? Non ve l'avevo forse già detto, che il mio modo di vivere e il vostro non si potevano conciliare? Andate e cercatevi un padre che sia secondo i vostri gusti, poiché dopo ciò non potete più assolutamente avere a me come abate. Benedetto se ne tornò quindi al luogo solitario che tanto amava, e abitò solo con sé stesso, sotto gli occhi di colui che dall'alto ci guarda. Pietro Non capisco bene che cosa significhi abitò solo con sé stesso. Gregorio Se il santo avesse voluto tenere per forza sottomesse simili persone, che avevano cospirato unanimi contro di lui, e che erano del tutto opposte al suo ideale di vita monastica, avrebbe forse presunto delle sue forze e perduto la pace e l'equilibrio. Egli avrebbe anche distolto il suo sguardo interiore dalla luce della contemplazione, affaticandosi giorno per giorno a causa della loro incorreggibilità, si sarebbe meno preoccupato di correggere sé stesso, e si sarebbe probabilmente perduto senza riportare quelli sulla retta via. Infatti, ogni volta che siamo trascinati fuori di noi stessi, agitati da eccessive preoccupazioni, siamo sì noi stessi, ma non siamo più con noi stessi, poiché, perdendo di vista il nostro io interiore, andiamo vagando altrove. Facciamo un esempio. Possiamo forse dire che era con sé stesso colui che partì per un lontano paese, scialacquando la sua parte di eredità, si mise al servizio di un padrone del luogo, divenne guardiano di porci e soffrì la fame, mentre gli animali sotto i suoi occhi si nutrivano di ghiande? Egli infatti, come dice la scrittura, quando cominciò a considerare quali e quanti beni aveva perduto, tornato in sé disse, quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza. Se dunque egli era già con sé stesso, da dove sarebbe tornato in sé? Ho detto quindi che l'uomo venerabile abitò con sé stesso per il fatto che, sempre vigilando sul proprio cuore, sempre vedendosi davanti agli occhi del creatore, sempre esaminandosi circa la propria condotta, non lasciò mai divagare all'esterno il suo occhio interiore. Pietro Perché allora dell'Apostolo Pietro è scritto che, quando l'angelo lo ebbe liberato dal carcere, tornato in sé, disse, ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. In due modi Pietro Gregorio, in due modi Pietro siamo portati fuori di noi stessi. O cadiamo al di sotto di noi a causa dei pensieri colpevoli, o siamo innalzati al di sopra di noi dalla grazia della contemplazione. Colui che faceva il guardiano di Porci precipitò dunque al di sotto di sé, perché si sbandò spiritualmente e si immerse nel vizio, mentre colui che fu liberato dall'angelo e che fu rapito in estasi si trovò, è vero, fuori di sé, ma sollevato al di sopra. Entrambi quindi rientrarono in sé, il primo quando, raccogliendosi nel cuore, prese coscienza della sua condotta dissipata, il secondo quando, dal culmine della contemplazione, tornò come prima alla sua normale capacità di coscienza. In quella solitudine, pertanto, il venerabile Benedetto abitò solo con sé stesso, nella misura in cui si trattenne nello spazio del suo pensiero, mentre ogni volta che l'ardore della contemplazione lo rapì in alto, egli lasciò certamente sé stesso al di sotto di sé. Pietro Ora la tua risposta è chiara, ma ti prego, dimmi, agito rettamente Benedetto, abbandonando quei fratelli di cui si era pur reso responsabile? Gregorio Io sono convinto, Pietro, che si debbano sopportare con pazienza anche i malvagi, quando si trovano radunati in una comunità in cui c'è pure la presenza di pochi buoni ai quali si può essere di aiuto. Dove invece manca completamente la speranza di poter raccogliere qualche frutto da alcuni buoni, risulta addirittura sprecata la fatica che si fa per i cattivi. Questo va considerato soprattutto se si presenta la possibilità di impegnarsi in qualcos'altro che dà modo di offrire a Dio frutti migliori. Di chi dunque il santo abate avrebbe dovuto prendersi cura in quel monastero, vedendo che tutti i monaci all'unanimità gli erano ostili? Accade del resto abbastanza sovente che i santi, e questo non va taciuto, constatando l'inutilità delle loro fatiche in un luogo, si trasferiscono in un altro dove prevedono di lavorare con qualche buono risultato. Così ad esempio fece il grande apostolo che ardeva dal desiderio di essere sciolto dalla carne per essere con Cristo, l'apostolo per il quale il vivere era Cristo e il morire un guadagno, e che non solo desiderò per sé le lotte spirituali e le persecuzioni, ma accese anche in altri il desiderio di affrontarle. Egli infatti, perseguitato a Damasco per poter uscire dalle mura, cercò una fune e una cesta, poi si fece calare giù di nascosto. Diremo forse per questo che Paolo ebbe paura della morte, lui che affermò di desiderarla per amore di Gesù? No, certo. Ma vedendo che in quella città doveva sostenere una gravosa fatica e raccogliere ben scarso frutto, si risparmiò per compiere altrove un ministero fruttuoso. Forte campione di Dio qual'era, egli non volle rimanere costretto al chiuso, ma cercò il combattimento in campo aperto. Allo stesso modo fece anche il venerabile Benedetto, e se vorrai ascoltarmi presto lo toccherai con mano. Egli, vivo, abbandonò quei monaci incorreggibili, e altrove ne risuscitò molti dalla morte dell'anima. Pietro È proprio come tu dici, e lo dimostra la logica del tuo ragionamento, come pure l'esempio appropriato che porti. Ora però continua, ti prego, raccontare con ordine la vita di un così grande padre. Gregorio Nel luogo solitario in cui viveva, il santo andò sempre più maturando in fatto di virtù e di miracoli. Di conseguenza si raccolsero là molti fratelli, per mettersi al servizio di Dio onnipotente. Vi costruì perciò, con il potente aiuto del Signore Gesù Cristo, dodici monasteri, in ognuno dei quali pose dodici monaci, affidati a un padre. Ne tenne con sé alcuni, che gli parve più conveniente formare direttamente alla sua scuola.